Si chiama Aggiungi un posto a tavola per Amatrice, lo spettacolo organizzato dall'Associazione Artisti e Talenti Molisani con il patrocinio della RAI del Molise e la partecipazione della Fondazione Giovanni Paolo II per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione del Teatro Comunale Garibaldi di Amatrice. 65 gli artisti per lo più donne che si esibiranno al Teatro Savoia mercoledì 8 marzo in uno spettacolo di musica, cultura e moda saranno previsti anche contributi e immagini fornite dalle Techerai. Alla conferenza stampa che si è svolta nella sede RAI per il Molise hanno partecipato il presidente dell'Associazione Artisti e Talenti Molisani Michele Falcione, il direttore generale della Cattolica Mario Zappia e la speaker di Radio Delta 1 Mary Gio che condurrà la serata. Adesso le oppure Grazie Grazie a tutti.